Scio e Caffa ci mettono undici anni va bene così Dipendenza per i bizantini, Costantinobili, quattro anni, qua potremmo Dipendenza per la Morea, ho capito, però qua tutti vogliono indipendenze varie Dov'è la mia flotta? Magno Gaudio siamo già arrivati, torna qua Proviamo, si Cos'è tutte ste richieste qua? Che cos'è sta guerra? Savoia è entrata in Eh si Savoia ha chiamato Milano in guerra Con chi è in guerra Milano? Monferrato e Siena Però se io dichiaro guerra sulla Savoia Mi arriva, no la Francia non verrebbe La Francia non verrebbe adesso perché in un'altra guerra In guerra con Borgogna Qua verrebbe l'Austria solo perché non abbiamo il Causus Belli Fabbrichiamo un Clemuccio Fabbrichiamo un Clemuccio su Milano Growth of the City Local Autonomy Oh 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 calma calma Cos'è? Eh Cattiva artigiani Più uno perdi guadagna uno a Genova Sì va bene Autonomia a CAF E poi abbiamo uno di Base Tax qua Qua invece cos'è? Trade Paper Spark We must Più tre local unrest Local production efficiency Guild No le guild sono già troppo potenti Se poi voglio abbassarle Poi diventa problematico No io non do il passaggio a nessuno Mentre io chiamerei Vai Perché non mi ha fatto Perché non mi fa sbarcare? Non capisco quale sia il problema Ah così fancura Ok Veloce prima che arrivi Ok Prima che loro hanno preso il Gbiltair Però prendere già Granada Non sarebbe affatto male Anche se è qua che c'è il Mettiamo un attimo la mappa economica Dov'è che sta il Prima che la mia missione Viene completata I Jabal Tarik Anche qua No occupied by you L'hanno occupata per me Grazie Grandissimo Io ti do questo territorio Mi prendo questi due Siamo amici come prima Siamo davvero amici come prima Però qua non stiamo Si stanno bloccando gli altri Occhio che non mi invadano Nulla in giro per il mondo E qua perché siamo sempre Genova E siamo sempre Cazzuti Tunisis Anche Tunisi Tunisi non sarebbe male Da attaccare Prenderci una ricompensuccia Qua Tunisi Morocco Non vorrei solo che facessero davvero tutto il giro Che mi arrivassero a Costantinopoli No non lo stanno facendo Ne hanno subito un po' di attrito qua La Spagna ci sta bloccando il porto Qua vanno Oddio tu hanno cambiato le immaginine Questo è occupato dalla Castiglia Questo è occupato da me Io ti regalo questo terreno qua Così non mi rompi le balle ELECTION KEEP BENEDETTO PICO Ogni 4 anni però è davvero È davvero pesante come cosa che ogni 4 anni Sta vincendo la Savoia o sta perdendo? Non facciamo il claim su Milano al momento Che voglio vedere solo se Di nuovo qua non viene nessuno Se riesco a fare il claim Il spari network sulla Savoia ragazzi E Milano le sta fracassando Sta fracassando la Savoia Che cacchio Subisco un attrito Complimenti a voi Ok qua abbiamo vinto The Clare Warren Circassia Duke of Burgundy Quindi Oh bene bene l'Austria Che prende Tutto su Grande Austria Ti stimo Vediamo relazioni assolutamente con l'imperatore Mi sa che la Savoia è uscita dalla guerra No non è uscita ancora dalla guerra Qua Facciamo spy network più veloce Grazie Grazie Beh su via qua Dai 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 Granada E poi voglio anche convertire Caffa Supporta la scuola bizantina Fiorentina Scusate 30 punti più 1 di prestigio Non abbiamo altro da fare Scusate Fiorentina No perché lasci la mia Trade League Mia potentissima Trade League Importante non è tenere sotto controllo Polonia Che non ci si ribalti Ribalti tutto Dosso Granada sta durando Un'eternità Questa sedia Abbiamo il 44 Il 14% Perché voi non invadete Tangeri Forse perché sono bloccati da Granada Sono bloccati da Granada Ok Perché non ci migliorano Bastardi Siete una vera fetenzia Siete una vera fetenzia Beh Dai 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 Che stress anche lì Oh finalmente è finito Adesso dovrebbero poter attaccare No Ah perché è bloccato Perché non lo si controlla Proviamo che adesso la Francia Avvierebbe La Francia ha una tregua Proviamo che adesso la Francia Mi sa che Viene come in guerra Contro la Savoia Cioè se adesso Dichiaro guerra Eh No Eh si la Francia viene Niente C'è un'altra di sfiga No noi al momento Non possiamo fare Oh bene Finalmente qua Iniziano le invasioni Non ho alcune intenzioni Di invadere Nessuno Quanto dovevo fare L'abbiamo fatto Anche se Tangeri Potrebbe essere Dovrebbe darmela a me Comunque Tangeri La Castiglia non è contenta Così sono contenti E sarebbe anche Sarebbero anche felici Però se loro conquistano Tangeri Lasciamoli fare Zelotti ortodossi In vent'anni Non ci interessa Comunque Io direi Per questo episodio È tutto Siamo riusciti Quasi Stardinariamente A prendere Gibilterra Mi piacerebbe Prendere anche Tangeri Perché ci metterebbe In una posizione Di assoluto dominio Poi qua Per poter andare giù In Marocco Che non è affatto male Come cosa La Savoia ha chiesto La pace bianca Minchia Milano Si è mangiata A Ferrara Completamente Firenze Sì Ne è alleata Con la Savoia Builds by Network Posso cliccare La CC Siena È la chiave Per attaccarla Savoia Nel momento È giù di morale Nel momento È giù di morale Quindi Merda Ecco Quello che non volevo E mo E mo So Cazzi Sì ma Però non mi diceva Che sarebbe Scoppiata subito Questi non mi Ask me Tyax Sì Oddio Oddio Subito Andiamo Immediatamente A casa Non mi interessa Che ho relazioni Ho troppe relazioni Perdiamo anche soldi Ma fa lo stesso Io sono Femlines Quindi non hanno Molti malus Sono 15 Andiamo a darci una mossa Andar via di lì Tanto qua Ormai quello che dobbiamo fare L'abbiamo fatto Luck of book Local goods produced Sì per la carta Che qua a Genova Adesso produce la carta È morto Teniamo un candidato Burocrate Sì Grazie Togliamo il forte Da Da Genova Al momento Negoziamo Ok Qua Sì ma le mie truppe Non le portate Ma sei un demente No Non le ha portate Le mie truppe Le mie truppe Le ha portate Dove sono? Ah sono qua Ok 12 Ma vogliamo un po' Di mercenari Che abbasserà Il nostro Professionalismo Che vabbè Che è nullo Quindi E poi Non abbiamo soldi Merda 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 Bizantini del cazzo C'hanno anche più cavalliere Di me La prendiamo un debito Un prestito Un prestito Un debito Sì Adesso siamo a debito Ok 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 Vili pirati Abbiamo preso un altro prestito Che hanno Adesso hanno fallito Attacchiamoli Ok Cerchiamo di raggiungerlo A sto punto Pia di chiudere l'episodio Raggiungiamo un accordo Ci danno anche Tangeri Tangeri No Non è contenta E se noi diamo Granada Tanto Granada Non la voglio Vediamo la Castiglia Così sono contenti Vabbè Non voglio far ancora Incazzare Perché mi rompete le balle Però se vi prendo Tangeri No Sperdonate Ma io Tangeri la voglio Non mi interessa Se si incazzano Se non fare Andare avanti la guerra Non mi interessa Non aspetta Prendere l'idea Perché È fondamentale Eh Surrender Dai Ma si è resa Ma vai a cagare Ma si è resa Giusto quando Stavo andando a combatterla Giustamente Adesso andrò di nuovo A debito Ancora di più Eh Cancella Giustamente Adesso Sono giustamente Resi Appena arrivato Comunque Siamo a debito E perdiamo Una fraccata di soldi Ogni turno Ahimè La spagna Continua ad attaccare Mi fa piacere Mi fa un pochino piacere Quelli stiano Lascia lì che discutano A noi non interessa Mettiamo in moveball La flotta Stai da cercare Di ridurre Le perdite Mantenimento Dei forti Ok Ok Mi danno anche Tangeri Senza granata La spagna Si incazza un po' Dammi tutti I tuoi soldi Send demand Ok Fine E direi che L'episodio Oh madonna E uno vuole finire L'episodio E non ce la fa Ok Qua è finito Tunisi Abbiamo preso Due mercantilismo Cosa vuole Grill Push for mercant reform We can afford To extend the deals Ovviamente Non perdo punti Accetta Di Poi adegnare Il traffico Dobbiamo Nazionalizzarlo Qua Ma Le idee E nel prossimo episodio Prenderemo le idee Che probabilmente Saranno quelle religioso Io vi ringrazio Per l'attenzione Un saluto alla prossima Ciao ciao Prenderemo le idee